Allora, vi siete fatti un trattato di economia politica di due ore, quindi direi che adesso la parte macroeconomica e politica la lasciamo un attimo da parte e parliamo più di analisi tecnica, analisi quantitativa, analisi finanziaria, legata sicuramente alla parte di trading, ma oggi in particolare mi è stato chiesto dagli amici di BNP di parlare di strategie di tipo trend following, strategie in particolare quindi che possono essere utilizzate anche per finalità di investimento dove per investimento non è sicuramente un investimento di ordine pluriannale ma è un investimento che ha un orizzonte temporale di un mese barra tre mesi non di più perché come magari qualcuno che ha, vedo alcune facce che sono già state qua nell'incontro di marzo ben sa, a mio modo di vedere l'ambito previsionale dell'analisi tecnica si limita secondo me molto al breve termine e poco al medio termine, ossia con l'analisi tecnica io sono in grado di prevedere in qualche modo quello che potrà essere il comportamento del mercato nelle prossime sedute, quindi in un'ottica di 3-5 giorni più allunghiamo l'orizzonte temporale più è chiaro che l'affidabilità dei segnali e di tutto quello che in qualche modo ruota attorno all'analisi tecnica quantitativa in qualche modo si riduce, ma questo è nell'ordine delle cose, più allunghiamo l'orizzonte temporale di qualsiasi cosa più le previsioni inevitabilmente è meno efficace, meno efficiente. Vi dicevo che oggi appunto parleremo di strategie operative di tipo trend following, strategie operative che in qualche modo mirano a individuare quella che è la tendenza primaria presente sulle varie attività finanziarie. Sono strategie che in qualche modo sono quindi adatte a chi ha in qualche modo l'idea che sul mercato inizi un movimento direzionale di una certa rilevanza, di una certa estensione anche da un punto di vista temporale e sono strategie che in qualche modo vanno messe a confronto con l'altra tipologia di strategie operative che si possono costruire sui mercati finanziari che sono le strategie di ordine contrarian, ossia strategie operative che invece non mirano a individuare l'inizio di una tendenza rialzista o ribassista principale ma mirano invece a individuare l'esaurimento di questa tendenza rialzista o ribassista. Quindi con queste strategie di cui parleremo questa mattina e nella prima parte di oggi pomeriggio noi saremo in qualche modo focalizzati a individuare che su una certa attività finanziaria c'è un trend, positivo o negativo che sia, e cercheremo di cavalcare quel trend. Quindi parleremo di questo genere di operatività, non parleremo invece delle strategie opposte che sono quelle che in qualche modo mirano a individuare l'esaurimento di questo trend. Questo genere di strategie, quelle di tipo contraria, sono state affrontate nell'incontro precedente che abbiamo avuto qui a BNP lo scorso mese di marzo, so che su internet trovate le registrazioni e in qualche modo poi vi darò l'indirizzo mail al quale richiedere le slide sia dell'incontro che abbiamo fatto a marzo, sia le slide dell'incontro di oggi. Quindi anche se non volete prendere troppi appunti o così, in qualche modo tutte queste slide, io ne ho preparate 124, non riusciremo sicuramente a vederle tutte perché i tempi ormai si sono accorciati in maniera importante. Comunque sia sono slide abbastanza discorsive, quindi in qualche modo si riescono a leggere, in qualche modo capendo quello che è il concetto che ogni singola slide poi esprime. Chissà, in qualche modo che mi seguo da un po' di tempo, sa che il mio schema di riferimento per studiare il comportamento ciclico dei mercati è quello che viene riassunto in questa slide, dove in qualche modo si fotografano le dieci situazioni standard, le dieci situazioni ripetitive che periodicamente appunto i mercati tendono a vedere più e più volte. Noi non parleremo di situazioni di inversione, quindi non parleremo delle fasi di accumulazione e di distribuzione che vedete proiettate in questa slide. Parleremo principalmente di trend ribassista e di trend rialzista, cioè parleremo di quelle strategie operative volte a, anzitutto a individuare che sul mercato c'è una tendenza in essere e poi a cavalcare il più possibile questa tendenza. Soprattutto vedremo come costruire delle strategie operative di breve termine, dove per il breve termine appunto vi dicevo con un orizzonte temporale di 3-5 sedute, ma poi l'obiettivo sarà trasformare quell'operatività di breve termine in un'operatività un po' più ampia, cioè una parte della posizione cercheremo poi di portarcela avanti il più possibile proprio perché avremo la consapevolezza che su quell'attività finanziaria c'è un trend in essere, quel trend è in qualche modo destinato a continuare a proseguire. Allora una parte la gestiremo con una finalità di trading, una parte della posizione che costruiremo invece la gestiremo con finalità di investimento. Allora per studiare la parte di trend noi utilizzeremo tre concetti di base che sono poi concetti di base dell'analisi tecnica. Faremo un'analisi di tipo grafica che studia in qualche modo il comportamento dei prezzi e saranno in qualche modo i prezzi poi a guidarci nelle nostre scelte di investimento, ma poi utilizzeremo anche una parte di tipo quantitativo, quindi con l'utilizzo di alcuni indicatori oscillatori che non sono altro che delle semplici formule matematiche che analizzano il comportamento dei prezzi e poi lo faremo anche tramite un'analisi tipo volumetrica. La parte volumetrica in qualche modo mi esprime la consistenza, la forza del trend che sto vedendo sul mercato. Analizzeremo i volumi, in qualche modo vi darò alcuni spunti di riflessione per in qualche modo inquadrare che tipo di comportamenti dovrebbero avere i volumi durante le fasi di tendenza, per cercare di capire se effettivamente quel trend positivo o negativo che sto vedendo sul mercato è effettivamente supportato anche da una dose consistente di volumi, dove poi vedremo la dose consistente di volumi indica il fatto che in qualche modo gli investitori di tipo istituzionale, che sono quelli che in qualche modo gestiscono una massa consistente di volumi, sono in qualche modo entrati su quel mercato e quindi mi stanno in qualche modo informando del fatto che la loro operatività è di un certo tipo. Allora quello che faremo è misurare giorno dopo giorno, day by day, quella che è in qualche modo la battaglia che quotidianamente si combatte sui mercati finanziari. C'è una battaglia costante tra la forza dei compratori, quindi la pressione rialzista, con la forza dei venditori, ossia la pressione ribassista. Io devo inquadrare in ogni momento chi sta vincendo questa battaglia, chi sta controllando il mercato, cioè alla fine di ogni giornata devo avere un'indicazione chiara e netta di che tipo di battaglia si è svolta sul mercato e quale delle due forze ha vinto questa battaglia. Quindi se lo contestualizziamo a quello che è successo in queste ultime due giornate è chiaro che in qualche modo avrò dei segnali che c'è una pressione rialzista molto più forte di quella ribassista, con tanti compratori che sono entrati sul mercato con volumi significativi e questo mi lascia in qualche modo presumere che ci sia da parte degli investitori istituzionali una view ancora positiva sui mercati, parlo di mercati azionari in particolare, quindi non so se andiamo a analizzare quello che è il trend rialzista di DAX, Eurostox, Fuzzimib eccetera eccetera, vediamo tutti dei trend rialzista oramai che si stanno protraendo già da diverso tempo ma che non hanno ancora andato dei segnali di esaurimento. Quindi finché non ci saranno questi segnali di esaurimento io devo rispettare quello che è il trend, la tendenza espressa dal mercato e cercherò quindi in un'ottica di tipo trend following di privilegiare un'operatività di tipo long piuttosto che una di tipo short proprio perché la tendenza primaria che è presente sul mercato è di tipo positivo. Allora noi vedremo che per esaminare tutta la fase di trend e quindi le fasi di tipo trend following utilizzeremo alcuni concetti, utilizzeremo in particolare alcuni concetti legati ai breakout, quindi ai breakout che non sono altro delle accelerazioni al rialzo o al ribasso che i prezzi registrano nel corso delle loro fasi di tendenza e queste accelerazioni non sono altro che delle giornate in cui una delle due forze prende decisamente il sopravvento sull'altra e quindi nel caso di breakout al rialzo avremo che sono stati i compratori a vincere in maniera netta la loro battaglia nei confronti dei venditori, sono riusciti a spingere in su i prezzi con decisione, con tanti volumi e allora saprò che i compratori, i rialzisti hanno vinto una battaglia importante, hanno preso in qualche modo il controllo del mercato e se l'hanno preso sicuramente non saranno disposti in qualche modo ad abbandonarlo da oggi a domani ed è quindi probabile che quella tendenza rialzista che si è instaurata sarà in qualche modo destinata a continuare ancora per un po'. Quindi ci focalizzeremo su questo breakout, su questa accelerazione da parte dei prezzi. Parleremo poi anche di alcuni indicatori tecnici, alcuni indicatori quantitativi che misurano in termini matematici proprio questa battaglia costante tra compratori e venditori, misurano ogni giorno qual è stata la forza dei compratori, qual è stata la forza dei venditori, in qualche modo mi dicono appunto che tipo di battaglia c'è stata e poi in qualche modo comparano l'ultima battaglia che c'è stata sul mercato con le ultime battaglie che ci sono state, chiaramente andrò a guardare chi ha vinto la battaglia di venerdì, chi ha vinto la battaglia di giovedì e chi ha vinto anche le ultime X battaglie che ci sono state sul mercato, per capire chi sta in qualche modo controllando la guerra che in qualche modo compratori e venditori si stanno facendo su quell'attività finanziaria. Lo faremo quindi con questi indicatori di tipo direzionali e poi vedremo alcune semplici tecniche, non le vedremo tutte, ne faremo vedere in particolare una, quella che qui viene chiamata 1, 2, 3 pullback, che è una delle tecniche più semplici per sfruttare una piccola correzione, un piccolo consolidamento laterale che si può sviluppare durante le fasi di tendenza, questo piccolo consolidamento laterale mi dà l'opportunità di costruire una strategia operativa con un basso profilo di rischio, volta però a sfruttare la presenza di un trend principale sul mercato. Ok, allora partiamo dal primo aspetto, abbiamo detto analisi grafica, analisi quantitativa, analisi volumetrica, partiamo dall'analisi di tipo grafico. L'analisi grafica è quella che in qualche modo viene conosciuta o viene chiamata ultimamente price action, ossia l'analisi del movimento compiuto dai prezzi. Questo movimento da parte dei prezzi può essere sviscerato in tanti modi diversi, io qui mi ho messi alcuni modi con i quali questi prezzi vengono in qualche modo monitorati, controllati da parte di noi analisti tecnici. Ad esempio c'è un'analisi che si basa sull'analisi dei quattro prezzi più importanti che si sono materializzati nel corso di ogni giornata, quindi apertura, prezzo massimo, prezzo minimo e prezzo di chiusura. Dal loro posizionamento io riesco già a avere delle informazioni importanti sul tipo di comportamento che il mercato ha avuto nella singola giornata. Quindi un'analisi di tipo basic sarà appunto andare ad analizzare il posizionamento di questi quattro prezzi. E come molti già sapranno il prezzo più importante è quel famoso prezzo di chiusura che viene fatto o comunque viene condizionato in maniera significativa dal comportamento degli istituzionali. Gli istituzionali a fine giornata devono decidere cosa fare su quell'attività finanziaria, rimanere in posizione al rialzo ad esempio o liquidare in tutto e in parte le posizioni che hanno. Quindi dalle loro scelte strategiche viene in qualche modo deciso dove si colloca quel prezzo di chiusura, in prossimità dei massimi o in prossimità dei minimi di giornata. Già quella è un'informazione importante che mi dice cosa si aspettano gli istituzionali per la giornata, per le giornate successive. Poi ci sono alcune analisi di tipo grafiche che riguardano ad esempio l'analisi degli cosiddetti swing di prezzi, ossia dei movimenti di tipo direzionale che i prezzi compiono e quindi si va a analizzare da che livello di minimo un movimento è partito e lo si va a analizzare fino al massimo che ha bloccato ad esempio una salita da parte dei prezzi, si misura quella lunghezza del movimento fatto dai prezzi e da lì in qualche modo si capisce che tipo di forza hanno avuto i compratori per spingere al rialzo i prezzi e che tipo magari di correzioni ci si può aspettare. Si parla di tecnica di swing low, swing high, ossia una tecnica che si basa su questi movimenti di swing che i prezzi compiono ripetutamente nel corso del tempo. Le analisi più semplici poi vanno alla ricerca anche della rottura dei classici livelli di supporto o di resistenza, molti di voi non ve lo sicuramente spiegherò io questa mattina sapranno che quando si legge un'analisi tecnica di tipo base che sono quelle che magari trovate anche sul nostro sito si parla sempre di il titolo attestato il supporto a 18,5 è possibile che rimbalzi fino a 18,8 e 19, a 19 c'è una resistenza molto forte che potrebbe bloccare la salita da parte dei prezzi, questi livelli servono per inquadrare fondamentalmente quali sono i principali livelli di supporto, di sostegno e quali sono i principali ostacoli che un'eventuale salita da parte dei prezzi potrebbe affrontare nel caso decidesse il titolo di salire, quindi si parla appunto di analisi dei supporti e di resistenze di tipo grafico, analisi dei supporti e di resistenze di tipo grafico che sono molto diverse dall'analisi dei supporti e delle resistenze di tipo volumetrico, quindi da questo punto di vista bisogna fare una distinzione netta e poi magari la vedremo almeno oggi pomeriggio magari quando faremo la seconda parte del mio intervento. L'analisi tecnica grafica quantitativa mira poi ad analizzare qual è stato il comportamento delle ultime due o tre barre giornaliere, queste due o tre barre giornaliere consentono di costruire quelli che in gergo tecnico vengono chiamati dei pattern, ossia delle configurazioni grafiche di brevissimo termine che molto spesso mi aiutano a capire cosa il mercato farà da qui in avanti. Ne vedremo alcune nell'intervento che abbiamo fatto qua a marte, abbiamo spiegato ad esempio un pattern che viene chiamato boomer piuttosto che un pattern che viene chiamato inside, tutte situazioni che mirano ad analizzare quello che è successo nel corso delle ultime una due o tre giornate e dal comportamento delle ultime una due o tre giornate riesco a capire quello che probabilmente il mercato farà nelle prossime una due o tre giornate. Quindi in qualche modo mi segnalano quello che il mercato si sta preparando a fare. E poi in qualche modo proprio perché parliamo di strategie di tipo trend following dovremo andare a guardare che tipo di movimento il mercato ha avuto su un orizzonte temporale un po' più ampio. Quindi andremo a guardare quello che è successo nel corso delle ultime due o tre settimane proprio perché quel movimento delle ultime due o tre settimane mi dice fondamentalmente chi ha vinto la guerra che c'è stata sul mercato nel corso dell'ultimo arco temporale oggetto di analisi. Quindi devo capire sì quello che è successo nelle ultime due o tre sedute per capire le ultime due o tre battaglie. Le ultime invece due o tre settimane in qualche modo mi fotografano chi sta vincendo la guerra in termini appunto di battaglia tra compratori e venditori. Allora per farvi capire fondamentalmente quali sono gli aspetti che andiamo ad analizzare per capire chi controlla il mercato vi faccio questi questi semplici esempi. Noi andiamo a guardare ad esempio questi tre aspetti che sono significativi in termini di espressione di forza dei compratori forza dei venditori. Andiamo a vedere ad esempio il prezzo di chiusura. Vi dicevo prima il prezzo di chiusura viene condizionato dall'operatività degli istituzionali. In termini tecnici operativi noi andiamo a fotografare una giornata in cui sono stati compratori ad aver avuto la meglio quindi una giornata di tipo rialzista se il prezzo di chiusura si colloca in prossimità dei massimi di giornata. Fotografiamo invece una giornata di tipo ribassista quando il prezzo di chiusura si colloca in prossimità dei minimi di giornata. Il range giornaliero che è il secondo aspetto che monitoriamo viene suddiviso diciamo in tanti pezzettini quindi ipotizziamo un titolo fatto un massimo a 19 e un minimo a 18,50. Questo range di 50 centesimi viene suddiviso in fasce. A seconda di dove si colloca il prezzo di chiusura io attribuisco a questa giornata una giornata moderatamente o molto rialzista o una giornata moderatamente o molto ribassista. Quindi posiziono il prezzo di chiusura all'interno di queste fasce di prezzo. L'altro aspetto che andiamo a monitorare è l'ampiezza del range giornaliero perché un conto è se è stata una giornata con un range giornaliero molto piccolo e sono le giornate che vengono giornate di consolidamento o di narrow range. Con i prezzi che hanno oscillato lateralmente solitamente sono giornate in cui i volumi non sono molto elevati e quindi sì, li posso dire che c'è stata una battaglia ma è stata una battaglia in cui né compratori né venditori hanno avuto il sopravvento su uno sull'altro. Il discorso cambia in maniera significativa quando invece il range giornaliero si espande in maniera importante, quindi quando la distanza tra prezzo massimo e prezzo minimo è particolarmente ampia. Li significa che c'è stato qualcosa di importante. O i compratori o i venditori hanno cercato di spingere o in alto o in basso i prezzi ma li so che molto spesso ci sarà stata una battaglia in cui sono state sparate diverse cartucce e queste cartucce me lo dice l'analisi volumetrica. L'analisi del volume mi dice se oggi su quel mercato c'è stato parecchio movimento e quindi parecchi scambi, parecchi interventi da parte degli istituzionali o invece è stata una giornata in cui né compratori né venditori se la sono sentita di entrare con decisione sul mercato e hanno in qualche modo preferito rimanere alla finestra. Fondamentalmente quindi potremmo sintetizzare in modo molto banale, molto semplice le giornate di borsa in sei tipologie di giornate. Delle giornate in cui il range giornaliero è molto piccolo, la prima barrettina che vedete qua a sinistra e sono giornate in cui sì magari il prezzo di chiusura vedete è là in alto ma è stata una giornata in cui lo vedete anche dalla dimensione dei volumi, sì il mercato è salito ma non è che tutti i compratori hanno in qualche modo fatto la voce grossa. Il discorso cambia man mano aumenta l'ampiezza del range giornaliero e quindi la distanza tra prezzo massimo e prezzo minimo vedete che man mano aumenta l'ampiezza molto spesso aumenta anche la dimensione dei volumi perché? Perché è inevitabile che aumentando l'ampiezza giornaliera degli scambi i volumi in qualche modo crescano. Potrà anche capitare una giornata in cui i prezzi salgono e scendono con pochi volumi ma fondamentalmente quello che magari capita sui titoli a media bassa capitalizzazione a scarsa liquidità se parliamo di attività finanziarie a liquide solitamente più si espande più si allunga il range giornaliero più i volumi aumentano ed è chiaro che l'aspetto chiave è sempre comunque il posizionamento del prezzo di chiusura perché noi passiamo parlando di barre al rialzo cioè di barre rialziste di giornate in cui alla fine i compratori hanno avuto la meglio sui venditori. Per le barre al ribasso è semplicemente il simmetrico chiusura sempre in prossimità dei minimi a seconda del range e della dimensione dei volumi riesco a capire se oggi la pressione ribassista che c'è stata sul mercato è stata bassa o è stata elevata. Ok allora quello che devo fare fondamentalmente è analizzare il comportamento del mercato su due orizzonti temporali diversi. Qui vedete due orizzonti temporali diversi in che termini? Qui vedete lo sviluppo di un trend ribassista primario quindi tornando al nostro orizzonte temporale tre settimane un mese di contrattazione. Questo trend ribassista è fotografato da dei massimi e dei minimi di swing che sono decrescenti e quindi sulla base di questa ipotesi io dico che quello è un trend ribassista da un punto di vista grafico. Poi devo andare a guardare nelle singole giornate che compongono questo trend ribassista cosa è successo perché magari io potrei avere delle giornate di tipo positivo. Vedete quelle stanghette di tipo blu che ho disegnato all'interno di questo movimento e quelle giornate positive che si sono verificate sul mercato. Sì sono giornate positive che si sviluppano sul mercato ma si sviluppano all'interno di un trend principale che è negativo quindi devo solo interpretarle come dei semplici rimbalzi, delle semplici pause all'interno di una tendenza principale che rimane negativa e che non devo in qualche modo dimenticare perché se il trend principale è negativo è chiaro che anche l'intensità e la forza di questi rimbalzi sarà inferiore rispetto invece all'intensità e alla forza che avrà il mercato quando decide di scendere in direzione del trend negativo. L'opposto lo abbiamo di là, abbiamo un trend rialzista principale quindi con una sequenza di minimi e di massimi di swing che sono crescenti, vado a vedere all'interno di questa tendenza principale le giornate positive ed è chiaro che qua la forza di queste giornate positive che si sviluppano all'interno del mercato sarà sicuramente più alta rispetto alla forza delle giornate positive che si sviluppano qua dentro perché qua abbiamo un trend di breve rialzista che si inserisce all'interno di una tendenza principale al rialzo e quindi in qualche modo il mercato sta andando nel breve termine nella stessa direzione del trend di medio termine e quindi i due trend in qualche modo sono tutti a favore del rialzo. Qua ho una tendenza principale al ribasso dove ogni tanto sì ci sono dei rimbalzi ma sono soltanto dei rimbalzi tecnici all'interno di un trend principale che è negativo e quindi la loro intensità, la loro forza sarà sicuramente inferiore. I rimbalzi del gatto morto. L'opposto nel caso di giornate ribassiste che si sviluppano sul mercato. Qui ho sempre il mio trend ribassista ma se vado a guardare le singole giornate negative che ho all'interno di questo trend vedo che quando il mercato accelera al ribasso avrò delle giornate di tipo negativo che avranno un'intensità, una forza molto più alta delle giornate di tipo ribassista che si potrebbe anche avere all'interno di un trend rialzista ma lì saranno soltanto delle correzioni, delle pause di consolidamento, delle prese di profitto che si sviluppano periodicamente all'interno di un trend rialzista ma che non modificano le forze in campo. Qui è un mercato controllato dai venditori, questo è un mercato controllato dai compratori. Ogni tanto all'interno di un mercato controllato dai compratori qualche battaglia i venditori la vincono ma saranno battaglie insignificanti, poco importanti in termini volumetrici e in termini di estensione. Un discorso diverso sono le battaglie che i venditori vengono, in qualche modo vincono quando già stanno comandando, hanno già il controllo del mercato, lì saranno giornate in cui ci sono accelerazioni importanti. Allora questa è la parte diciamo basic di tipo analisi grafica per farvi capire quali sono in qualche modo le valutazioni che vengono fatte. Adesso passiamo all'analisi tipo quantitativa ossia l'analisi degli indicatori. Questi indicatori svolgono un ruolo chiave nel qualche modo delineare quello che è lo scenario presente sul mercato. Perché sotto questo punto di vista noi possiamo avere due situazioni. Una prima situazione è quella che vedete in questa slide. Gli indicatori confermano il trend presente sul mercato. Se questa è la situazione significa che nel caso in cui io abbia un trend di tipo ribassista, quindi con una sequenza di massimi e minimi decrescenti di swing, gli indicatori cosa mi devono confermare? Mi devono confermare che i ribassisti hanno il controllo del mercato. Come fanno a confermarlo? Mi devono andare a avere un comportamento che sia conforme a quello dei prezzi. Quindi devo andare a guardare che ogni volta che il mercato scende su un minimo più basso, anche il mio indicatore scende su un valore via via sempre più basso e quindi abbiamo minimi decrescenti da parte dei prezzi con minimi decrescenti da parte dell'oscillatore. Se quello è il comportamento dell'oscillatore barra indicatore, so che quella ha una tendenza ribassista di tipo grafico, la linea rossa che vedete sopra, che è confermata anche da un punto di vista quantitativo e quindi ha una tendenza forte al ribasso. So che prezzi indicatori si stanno muovendo entrambi nella stessa direzione. Il discorso è lo stesso, girato chiaramente al rialzo, nel caso di trend rialzista. Il trend rialzista è caratterizzato da minimi e di massimi crescenti. Devo andare a verificare che ogni volta che il mercato sale su un massimo più alto, anche l'indicatore via via si porta su un valore più alto. Se quello è il comportamento dell'oscillatore, allora abbiamo che prezzi indicatori si muovono nella stessa direzione e quindi quel trend è forte, è confermato sia dall'analisi grafica che dall'analisi quantitativa. Se quello è il comportamento di prezzi e indicatori, la nostra strategia operativa di tipo trend following sarà questo. Allora, il nostro mercato diciamo parte da un minimo e sale su questo massimo, fa il movimento 1, 2. Quindi ipotizziamo che venga già da una salita e quindi sia già in trend rialzista. Questa salita è confermata dai miei indicatori. Quindi ho massimi crescenti da parte dei prezzi con massimi crescenti anche dall'oscillatore. Se su quel picco al punto 2 ho questo comportamento, cosa succede? Il mercato corregge. Il mercato dal picco al punto 2 scende al minimo al punto 3. Questa discesa 2 e 3 sarà una discesa contenuta, sarà una discesa nel quale i prezzi si scendono ma saranno soltanto fisiologiche prese di profitto con i venditori che si vincono qualche battaglia nel corso di questa discesa, ma saranno battaglie insignificanti, con pochi volumi. Non c'è una pressione ribassista che aumenta in maniera importante. Quindi significa che i rialzisti sono ancora in controllo, i compratori hanno il controllo del mercato. Qualche compratore ha preso profitto, ha fatto scendere il mercato, ma esaurita questa correzione, e me ne accorgo che sono prese di profitto dall'analisi volumetrica che adesso vedremo, quindi avremo una correzione con volumi molto bassi. Io so che il mercato ha esaurito a quella correzione, siccome si trova in un trend rialzista, esaurita questa correzione poi riprenderà a salire. Ma perché? Tutto dipende da come è arrivato alla fine della precedente salita. Cioè quello che fa girare la struttura del mercato, lo vedremo nel caso opposto, è come il mercato arriva sul picco precedente. Se qua sopra non ci sono divergenze, non ci sono segnali di inversione, non ci sono altre cose che riguardano le strategie di reversal che oggi non affronteremo. Lì sopra il mercato esaurisce la sua spinta, corregge, pochi volumi, intensità scarsa a livello grafico, esaurita questa correzione il mercato riparte. L'opposto in un trend ribassista, il mercato accelera al ribasso, scende su questo minimo al punto 2, lì qualcuno che è sto bravo andare short, si ricopre, quindi chiude le posizioni al ribasso, innesca un rimbalzo tecnico, ma i ribassisti hanno ancora il controllo del mercato, hanno ancora il controllo del mercato perché su questo minimo al punto 2 non c'erano le divergenze con i nostri indicatori e non c'erano altre cose che, diciamo, un po' più complicate, ma diciamo per farla semplice in particolare non c'erano divergenze. Allora questo rimbalzo, questo recupero 2, 3 è soltanto un rimbalzo tecnico esaurito il quale poi il mercato continuerà a scendere, ma come lo so da come il mercato è arrivato sul minimo al punto 2 o nel caso di trend ribassista sul picco al punto 2. Allora, cos'è che succede invece nel caso opposto, quando c'è invece la presenza di divergenze tra i prezzi e indicatori? Qui noi ragioniamo in un'ottica di tipo trend following, cioè abbiamo un trend rialzista, aspetto che il mercato consolidi, ritracci velocemente, questa correzione è la mia opportunità per aprire posizioni long prima che il mercato poi riprenda a salire, giusto? Quella è in qualche modo la strategia di tipo trend following che viene utilizzata con maggiore frequenza, anche in termini di volatilità e poi è un discorso che affronteremo se non questa mattina, oggi pomeriggio. Nel caso in cui ci siano divergenze non si va più trend following, la divergenza mi dice che i prezzi stanno andando da una parte, i miei indicatori stanno andando dal lato opposto, significa che non c'è più convergenza, significa che c'è qualcosa che non va. Come fa a dirmelo il mio oscillatore barra indicatore? Vediamolo in questa semplice slide. Il mercato sta scendendo, minimo al punto 1, rimbalza e ridiscende su un minimo al punto 2. Al minimo al punto 2 io ho minimi decrescenti da parte dei prezzi e quindi quello mi sembra confermare una tendenza ribassista, ed è una tendenza ribassista da un punto di vista grafico, perché là sopra io ho una sequenza di minimi e di massimi decrescenti di swing. Devo però andare a guardare e ottenere una conferma dei miei indicatori. Vado a vedere i miei indicatori e mi accorgo che gli indicatori non confermano questa tendenza ribassista. Come me ne accorgo? Me ne accorgo dal fatto che quando il mercato scende sul minimo al punto 2 vado a vedere il valore del mio indicatore e il valore del mio indicatore è superiore al valore che l'indicatore aveva quando i prezzi avevano registrato il minimo al punto 1. Si dice che c'è una divergenza di tipo positivo, rialzista, quando abbiamo in una tendenza ribassista principale una sequenza di minimi decrescenti con minimi invece crescenti da parte dell'oscillatore. Questo comportamento mi dice che nell'ultima fase di quella discesa i ribassisti sì hanno spinto in giù ancora il mercato, ma l'hanno fatto con un'intensità inferiore rispetto alla forza che avevano dimostrato nelle ondate, nei movimenti a ribasso precedenti. E quindi mi allerta sul fatto che sì c'è ancora una tendenza ribassista in atto, ma i ribassisti, i venditori non hanno più quella consistenza, quella forza che avevano dimostrato prima. Si parla in questo caso appunto di divergenza rialzista, questa è invece una divergenza di tipo ribassista che è l'opposto. I prezzi salgono, disegnano al punto 2 un massimo che è crescente rispetto al picco al punto 1, quindi ho una sequenza di massimi crescenti, vado a fare la mia verifica con i miei oscillatori barra indicatori e mi accorgo che su quel massimo al punto 2 l'oscillatore non conferma il picco raggiunto dal mercato. Perché? Prego. Non ho capito l'oscillatore, dove lo vedo? Che cos'è esattamente? Adesso ci arriviamo. Adesso questo è il concetto, mi serve per spiegare il concetto di divergenza, poi vediamo cos'è. La divergenza di tipo ribassista invece è qua, quando ho massimi crescenti da parte dei prezzi con massimi decrescenti da parte del mio oscillatore. Tengo a sottolineare una cosa importante che so, crea sempre parecchia confusione. In un trend ribassista si lavorano sui minimi, quindi si va a guardare i minimi dei prezzi e li si confronta con i minimi dell'oscillatore. In un trend rialzista non si lavora sui minimi, si lavora sui massimi, quindi il confronto che va fatto è massimi crescenti da parte dei prezzi con massimi decrescenti da parte del mio oscillatore. Il signore diceva, ma questo oscillatore dove lo prendo? Adesso ne vediamo cos'è un oscillatore, cos'è un indicatore e cerchiamo di chiarire come fanno questi oscillatori a confermare o non confermare il movimento da parte dei prezzi. L'oscillatore barra indicatore non è altro che una formula matematica che analizza, in base appunto a questa formula, il comportamento dei quattro prezzi che si formano ogni giorno sul mercato, il prezzo di apertura, il prezzo massimo, il prezzo minimo e il prezzo di chiusura. Li analizza giorno dopo giorno e in base al loro posizionamento e al confronto di questi quattro prezzi con i quattro prezzi del giorno prima, di tre giorni prima, di un certo arco temporale precedente, riesce a ottenere delle informazioni che magari a noi potrebbero sfuggire, perché è chiaro che sono i prezzi che fanno muovere l'indicatore, non viceversa, l'indicatore è una formula matematica che lavora sui prezzi, quindi è in base a come si muovono i prezzi che in qualche modo viene influenzato l'indicatore. I prezzi in qualche modo la fanno da padrone. L'indicatore li elabora, li analizza nel dettaglio e a volte conferma quello che stanno dicendo i prezzi, a volte si accorge che c'è qualcosa che non va. E poi ne vediamo alcuni con alcuni esempi grafici e poi cerchiamo di capire un po' meglio questo aspetto. Quello che vi volevo far vedere è che se siamo in presenza di divergenze, quindi quando l'indicatore non conferma quel trend che è presente sul mercato, la nostra strategia non può più essere di tipo trend following, la nostra strategia va ribaltata. Perché? Perché se io mi accorgo che il mercato è in trend rialzista, sale da questo minimo al punto 1, al massimo al punto 2, ma su quel massimo al punto 2 ci sono delle divergenze, lì significa che quel trend rialzista sta perdendo forza, sta perdendo intensità. I compratori sì sono ancora in controllo del mercato, ma non sono così forti come lo erano in precedenza. E allora da un punto di vista operativo non sfrutterò più quella correzione 2-3 per entrare al rialzo in vista di un nuovo allungo, ma la mia strategia si trasforma in una strategia di inversione. Aspetterò cioè che il mercato scenda. A un certo punto il mercato proverà a risalire, ma disegnerà un massimo, quello che vedete qui al punto 4, che è decrescente rispetto al massimo sul quale c'è la divergenza. Questo massimo al punto 4 mi dirà, essendo decrescente rispetto al suo picco precedente, che il mercato non è più in trend rialzista. Perché per avere un trend rialzista devo avere minimi e massimi crescenti. Questo massimo, non essendo crescente a quello precedente, mi dice che anche da un punto di vista grafico il mercato non è più in trend positivo. E quindi qui ci sarà il segnale di inversione, il segnale nel quale qua sopra l'indicatore è andato in divergenza. Adesso anche i prezzi mi confermano che il trend non è più rialzista, ma anzi sta per girarsi ribassista. Prima c'è la divergenza e poi c'è il comportamento da parte dei prezzi che in qualche modo annulla il trend nel quale il mercato era inserito e crea le premesse per un'inversione. L'opposto nel caso di trend ribassista. Se io mi accorgo che il mercato scende, fa un minimo al punto 2, su questo minimo al punto 2 ci sono le mie divergenze col mio oscillatore, cosa mi dice l'oscillatore? Mi dice che il mercato sta perdendo forza nella sua discesa, quindi c'è un campanello di allarme che squilla. Da un punto di vista operativo quindi cosa faccio? Non sfrutto più come prima il rimbalzo 2-3 per andare al ribasso in vista di una nuova discesa. No, perché l'indicatore sul minimo precedente non lo conferma più. Quindi cambierà la mia strategia e diventerà una strategia di inversione, di reversa. Cioè aspetterò che il mercato rimbalzi, poi il mercato proverà a scendere, ma disegnerà un minimo 4 che è crescente rispetto al minimo 2. Con quel minimo 4 il mercato non può più dirsi in trend ribassista, perché avrò due minimi crescenti. Il trend ribassista, vi ricordo, è fotografato da una sequenza di minimi e di massimi decrescenti. Qui i minimi non sono più decrescenti, qui il mercato non continua a scendere, si ferma qua. Quindi questo minimo 4 crescente al 2, dove sul 2 c'era la presenza di divergenze, mi dice che sul mercato si sta creando quella che in gergo tecnico è chiamata una base, una base di accumulazione. I ribassisti perdono il controllo del mercato, io perdo quasi l'equilibrio, i compratori lo stanno acquisendo, stanno in qualche modo entrando in maniera importante e stanno creando le permesse poi per un'inversione. Prego. Che tipo di intervallo deve tenere presente un indicatore per essere efficace? Allora, la regola generale è che più si utilizzano un oscillatore su un arco temporale breve, più chiaramente l'oscillatore è reattivo nel recepire il movimento da parte del mercato, più però corre si corre il rischio di avere quelle che in gergo tecnico vengono chiamate dei falsi segnali, cioè di magari recepire un qualcosa che non è ancora significativo in termini effettivi. Quindi in realtà non c'è un arco temporale ottimale. In generale io uso, su base giornaliera, indicatori tarati su due archi temporali diversi. Uno solitamente a 5 giorni, che mi rappresenta una settimana di contrattazione, e lo stesso indicatore poi lo taro a 15 giorni, che sono 3 settimane di contrattazione. In questo modo ho il primo indicatore che è veloce e rapido nel recepire il movimento del mercato. L'altro è un po' più lento, e quindi mi darà dei segnali con un po' più di ritardo, e quindi si dice un segnale di tipo ledging, ma solitamente l'altro me li da un po' più affidabili. Quindi li valuto insieme, proprio perché non esiste, diciamo, come esiste l'indicatore ottimale, non esiste neppure un arco temporale, diciamo, perfetto su questo punto di vista. Ed è possibile che i due indicatori parlino diversamente? No, lo stesso indicatore, tarato su due archi temporali diversi, mi spiego, se io utilizzo un RSI, perché magari qualcuno lo conosce. L'RSI a 5 periodi mi disegna una divergenza positiva, molto spesso quella divergenza positiva si trasla con un po' di ritardo sull'RSI a 15 periodi. L'RSI a 15 lo fotografa con un po' di ritardo, ma fotografa sempre il fatto che è successo qualcosa sul mercato, quindi molto spesso è solo una questione temporale. Bene, grazie. C'era, mi sa, ho visto anche qualcun altro. Sì, no, niente, siccome appunto queste cose le insegno anch'io e quindi volevo più che altro dirti una cosa. Te lo dico perché non è stata magari chiara per me, quindi magari può essere una buona critica per te. Cioè sostanzialmente la domanda che ti ha appena fatto la signora, ovviamente forse non hai premesso il fatto, o meglio l'hai premesso ma non bene, che è proprio una questione di time frame, no? Tu stai parlando di un tipo di trading in giusto momento swim, no? Cioè nel senso quello che può andare dalla giornata fino ai 5 giorni piuttosto che ai 10 giorni, no? Ovviamente invece un oscillatore, ed è vero, più breve si fa il time frame e più i falsi segnali sono ricorrenti e questo l'hai detto. Però ovviamente ci sono anche time frame per esempio per gli intraday che sono a un range ancora più basso di te, quindi sostanzialmente quello che volevo dirti io è che magari non si è ricipito il fatto che gli oscillatori esistono fino a time frame proprio piccolissimi che vanno anche al minuto, no? Assolutamente. No certo, assolutamente. Scusami eh ma... No! Allora il discorso che faceva il signore è questo, che io ho fatto una presentazione oggi legata a strategie operative tipo trend following, la premessa era che il trend following viene sfruttato su base daily, quindi tutti i discorsi che faccio presuppongono che si analizzi il grafico giornaliero, quindi io prendo questi 4 prezzi di cui parlavo adesso, apertura, massimo, minimo e chiusura, sono l'apertura delle 9, il massimo più alto che è stato fatto nel corso della giornata, il minimo più basso della giornata, il prezzo di chiusura delle 5 e mezza se parliamo di mercato azionario. Prendo quella barra che è la barra giornaliera, daily, perché trend following significa prendere, costruire una posizione che appunto dicevo può durare 3, 5, portiamola avanti ancora 15, 20 giorni su base daily sempre. È chiaro che se le stesse strategie si possono utilizzare anche su archi temporali che vengono chiamati intra day, quindi si va a analizzare il movimento da parte dei prezzi nel corso della giornata e quindi si possono utilizzare barre a 60 minuti, 30 minuti, 15, 5, 3, 1 minuto, ci possono poi essere anche... Nel senso che proprio questo qua, forse non era passato, ma quello che dice, nel senso che il time frame può essere veramente da pochi secondi perché io... Certo, assolutamente. ...in 60 secondi, fino a come hai detto tu, anche a me di... ...e ovviamente c'è un'analisi di fondo da fare a seconda del tipo di trading... Che uno vuol fare, assolutamente. ...in polo di tre, cioè, diciamo, seguire la tendenza può anche valere anche nei 60 secondi. Certo. ...poi ci sono tecniche di track out, ci sono tecniche di trading polo, cioè tutto quello... Con questa postilla, con questa postilla, visto che abbiamo affrontato questa tecnica, diciamo, chiamiamola multi time frame, quindi analizzare il trend, quello che c'è sul grafico giornaliero, per poi magari andare a lavorare nell'intraday. Per come lo vedo io, diciamo, da un punto di vista operativo, a parte il caso che siate degli heavy trader che fanno 50-100 eseguiti al giorno, però, visto quando avete alzato la mano con le risposte di Brambilla, magari qualcuno c'è, ma diciamo, non è il bacino di utenza di questa presentazione. In generale, si va a lavorare nell'intraday per ottimizzare un segnale che viene dal grafico giornaliero, cioè il time frame superiore comanda su quello inferiore. Cosa voglio dire? Voglio dire che se su base giornaliera io ho un trend di tipo rialzista, e questo trend di rialzista è confermato dai prezzi, dagli indicatori, dai volumi, e quindi ho il chiaro segnale che sono i compratori ad avere il controllo del mercato. A livello intraday vanno privilegiate, o comunque vado preferite, un'operatività di tipo long, rialzista, cioè cercherò nell'intraday delle opportunità per mettermi a rialzo, a favore del trend principale che ho sul time frame superiore, che è quello che comanda. Ok? Se vogliamo fare un rapporto tra trend following daily e intraday trading, diciamo, addirittura di scalping, se no di movimenti proprio di swing a livello intraday. So che, allora, io andrei avanti, ma so che alle 12 e mezza mi fanno segni strani dal fondo, eccetera. Allora, magari faccio soltanto un'ultima osservazione, poi oggi pomeriggio riprendiamo con questi argomenti, visto che abbiamo affrontato la parte grafica, la parte quantitativa, dico soltanto due cose sulla parte volumetrica e poi cedo la parola agli amici di BNP. In generale, vi ho detto, noi analizziamo congiuntamente questi tre aspetti, prezzi, indicatori, volumi, e in qualche modo vi ho detto, dobbiamo andare a capire la consistenza, lo spessore e la forza di questi acquisti o di queste vendite. Lo sviluppo teorico ideale di un trend rialzista è quello che vedete in questa slide, un trend rialzista, volete, è caratterizzato da minimi e massimi crescenti di swing. Il mercato parte, strappa, corregge, questo minimo deve essere crescente rispetto a questo, poi da questo minimo il mercato riparte, sale su quel massimo di swing che deve essere crescente rispetto a quello, poi corregge e questo minimo deve essere crescente a questo. Una sequenza di minimi e di massimi crescenti. Questa è la parte grafica, questa parte grafica, vi ho detto, deve essere confermata anche dalla parte quantitativa degli indicatori e vi ho fatto vedere quando convergono e quando invece divergono. L'ultimo elemento che va valutato è la forza, la consistenza dei volumi e da un punto di vista, vi dico, teorico, lo sviluppo ideale è quello che vedete in questa slide. I volumi dovrebbero essere elevati durante le fasi di spinta e rialzo per poi contrarsi durante le fasi di correzione e consolidamento, riaumentare quando il mercato riparte al rialzo, riridursi in qualche modo quando c'è una pausa di consolidamento. Perché questo è il modo con il quale i volumi mi informano che effettivamente questo è un mercato controllato dai compratori. Tanti compratori, tanta pressione a rialzo quando il mercato sale e pochi venditori, poca pressione a ribasso quando il mercato consolida, lateralizza, perché lì sono prese di profitto, comunque poche vendite significativi da parte degli istituzionali che rimangono fondamente in direzione del trend e quindi in qualche modo quelle so che sono soltanto delle brevi pause prima che il mercato continui nella sua salita, proprio perché vedo che la pressione rialzista è forte e la pressione ribassista è debole. I volumi a livello di, chiamiamolo, barra daily, sono quelle stanghettine che vi trovate nella parte bassa delle vostre piattaforme di trading. Non vanno confusi con il volume profile, market profile, che invece va a analizzare come si distribuiscono questi volumi nel corso delle singole giornate. Il volume profile, market profile va a guardare, ok, oggi questa attività finanziaria ha scambiato 5 milioni di pezzi, ma questi 5 milioni di pezzi sono stati scambiati per la maggior parte nella parte alta o nella parte bassa del range giornaliero o nella parte centrale. A seconda di dove si colloca la maggior parte dei volumi scambiati nel corso della singola giornata, io ho delle informazioni ulteriore. È un argomento che abbiamo affrontato nel seminario dell'11 marzo, trovate su internet la registrazione, se vi va di approfondire questo aspetto più legato però al trading intraday, trading appunto di breve, brevissimo termine, sul trend following è sufficiente, mi muovo di vedere questa semplice slide.